Il momento di formazione, diciamo così, importante, però l'aspetto ancora più importante è che ne escono arricchiti anche i relatori, perché è soprattutto una grande occasione di confronto e di accrescimento innanzitutto umano e poi professionale. Sì, sicuramente un ottimo motivo di scambio professionale con tutti i colleghi delle marche che sono intervenuti, in particolare siamo andati su due ordini che sono fortemente interessati alla ricostruzione post-sisma e occupandoci in maniera molto dettagliata e specifica, grazie ai relatori di altissimo livello intervenuti, siamo andati ad approfondire le tematiche della vulnerabilità sismica nei centri storici, in particolare per gli edifici in muratura che hanno subito dei forti danneggiamenti. Questo è stato fatto in queste due giornate in forte sinergia con tutti gli organi che intervengono nella ricostruzione, i liberi professionisti, gli uffici per la ricostruzione, il genio civile e le sovraintendenze. Tutti gli attori, diciamo, che stanno partecipando attivamente alla ricostruzione del post-sisma Centro Italia. Questo deve essere solo l'inizio di un cammino che ci porterà insieme ad attivare nuove tecnologie, a conoscerle insieme e a capire meglio i parametri che ci consentono di dare una maggior sicurezza per le abitazioni dei cittadini che sono stati danneggiati dal sisma. È un aspetto sicuramente delicato perché il momento da questo punto di vista è delicato, però il rovescio della medaglia è che c'è grande attenzione rispetto a questa tematica, quella della messa in sicurezza degli edifici. Sì, la messa in sicurezza degli edifici nella regione Marche sicuramente è tornata fortemente alla ribalta dopo gli eventi sismici del 2016. Ciò però ha portato anche a una maggior divulgazione all'interno degli ordini professionali, nei professionisti stessi e soprattutto una maggior conoscenza nei cittadini. Questo poi si è allargato all'interno di tutta la regione anche nelle aree non colpite da sisma, andando così a sollecitare anche le pubbliche amministrazioni, comuni, province e regioni nella verifica di vulnerabilità sismica degli edifici ad utilizzo pubblico. Basta fare solo un esempio per le scuole. Tutte le scuole della regione attualmente sono la maggior parte verificate, altre sottoposte a verifiche di vulnerabilità sismica, tant'è che risultano come gli edifici più sensibili anche dal punto di vista della popolazione, del cittadino, in quanto contengono gli alunni delle nostre scuole. Tutti gli altri edifici sono sottoposti a verifica e questo si sta facendo anche per altri edifici di tipo ad utilizzo pubblico come gli edifici ecclesiastici. Quando prima magari questo aspetto era poco tenuto in conto, attualmente si sta verificando un'attenzione maggiore in tutti i grandi contenitori che hanno bisogno di una sicurezza strutturale.